A volte non servono troppe parole. Gregorio, ti vogliamo bene. Gentili te spettatori di S1 TV, benvenuti al Comunale di Montepaone Fra Botto Mannis, dove si sta per svolgere la gara del campionato di prima categoria calabrese Girone C tra Real Montepaone e Eurogiri Falco. E la squadra esterna 65 di S1 TV, magistralmente guidata da Anton Luca Franco, con la collaborazione esterna del giornalista della Gazzetta del Sud Giuseppe Ranieri, il coordinamento di Adele Chiaravalloti, i numeri che ci fornisce gentilmente Maurizio Vatrano e la voce di Giorgio De Filippis, che vi augura buon pomeriggio qui in una giornata che inizia doverosamente con il ricordo di un amico, Gregorio Vatrella, che ora corre in paradiso, sui campi verdi del paradiso. Le due squadre sono pronte per entrare in campo, come vedete, alla nostra inquadratura e soprattutto le tribune si stanno riempiendo. Sappiamo che qui a Montepaone c'è l'abitudine molto English di arrivare allo stadio all'ultimo minuto, ma sia il primo che il secondo anello sono pronti per ospitare e godere di questo spettacolo sportivo relativo alla seconda giornata del campionato della stagione 2017-2018. Ed ecco che tra un applauso di saluto stanno scendendo in campo le due formazioni con il signor Petrosino di Lamezia, che sarà l'arbitro senza VAR, senza assistenti, solo con il suo fischietto, a guidare le situazioni e a decidere sulle situazioni più complicate di questa partita. Da un lato alla nostra destra nella tradizionale divisa bianca con inserti giallo-verdi il Montepaone, dall'altro totalmente in verde con calzettoni scuri l'Eurogirifalco. Si tratta quindi sostanzialmente di un derby e noi andiamo a leggervi quelle che sono le formazioni che scenderanno in campo. Mister Cristofaro schiera stranieri, Turevitaliano, Signorello Ferraina-Palaia, Burdino-Vonella-Trino, Conidi-Equirino, il bomber che ha il numero 11. Dall'altra parte risponde il signor Pisano-Alessandro, il signor mister del Montepaone, con Lombardo-Cannistraienco, Mellace, Conidi, in questo caso Nicola, Bassi-Demassi-Doria, Voci-Procopio-Gualtieri e Paparazzo come ultimo giocatore col numero 11. Intanto, mentre si stanno salutando, diamo anche lettura di quelli che sono i giocatori in panchina. Per l'Eurogirifalco, Sparacino, Randos-Gro, Loprete, Shaban, Sagna e Darab, mentre per il Montepaone sono Leone, Fiorentino, Carpino, Gangale, un vecchio mito del Montepaone, Greto, Mungo e Pirritano. Quest'anno, sapete, ci sono numerose novità ma noi le approfondiremo poi piano piano nel corso della Telecronica. Un saluto a Giuseppe Ranieri. Buon campionato, Giuseppe. Buon campionato anche a voi. Amici sportivi, buon pomeriggio dal Comunale di Montepaone. E qui, sapete, la tribuna stampa del Comunale del Frabotto Mannis è gremita di personaggi importanti. Sono tutti lì nell'angolo, intorno a Mimmo Cosentino, inviato del Quotidiano, vari mister, allenatori e tutti quelli che ne capiscono di calcio e che quindi potranno aiutarci a decifrare almeno gli schemi che verranno messi in campo dai due allenatori e dai 22 atleti che si preparano a dare il calcio d'inizio. Ricordiamo che quest'anno ci sono novità anche per quanto riguarda le sostituzioni. Insomma, un campionato tutto da scoprire, un campionato che speriamo ci faccia divertire come il precedente e dal punto di vista i tifosi del Montepaone ci faccia divertire anche un poco di più e non diciamo altro. Sta per fischiare il signor Petrosino che ha controllato tutto quanto si poteva controllare e sarà l'Euro G di Falco a iniziare le danze con un tocco all'indietro e con l'inizio della manovra che vede Burdino controllare il pallone. Ormai sapete che tutti i giocatori si appoggiano al portiere perché è moda appunto che il portiere partecipi al gioco anche con i piedi. Il rilancio però finisce in rimessa laterale. Sarà Conidi, Nicola, il numero 5 del Montepaone a effettuare questa rimessa. Tocco verso Procopio che allunga il pallone di testa. Arriva Mellace, il guerriero Gran Cross radente che però non trova nessun giocatore pronto alla deviazione e finisce, si spegne sul fondo alla destra e la porta difesa da stranieri. Dicevamo quindi un campionato che inizia, c'è già stata la prima giornata, ne parleremo successivamente, ma comunque un campionato che sarà denso di emozioni. Giuseppe, tu hai già in tasca il nome di chi vincerà il campionato? No, è troppo presto per potersi pronunciare. Dopo una prima giornata, oggi la seconda, non possiamo dire una squadra o l'altra perché come ogni inizio i volumi e gli equilibri sono bassi e le squadre sono tutte da resettare. Intanto si muove il Montepaone in attacco ma viene intercettato il lancio. Controllo a centrocampo del numero 8 Vonella che poi innesca Quirino che lancia a lungo verso Domenico Conidi che tenta lo stop ma viene subito marcato. Ci sembra che si tratti di Ienco, se lo andiamo errati, ora si girerà e leggeremo anche il numero. Uno dei giovani della cantera del Montepaone che tanto bene stanno facendo. Ricordiamo che Ienco è un millennial. Il tocco di Mellace viene interrotta l'azione da Touret che rinvia lontano però dove il campo finisce e dove sarà poi il portiere Lombardo a effettuare il calcio di rinvio all'interno della propria area, la classica area piccola del portiere. Tocco per Cannistrat che scambia ancora con Lombardo che un po' al modello Gomis della Spal rilancia a lungo dove c'è il colpo di testa per l'elegante stop di Marco Voci che cerca di imbeccare subito in profondità Procopio, stop di petto Procopio, Salvatore Procopio che approfitta di una piccola svista di Vincenzo Vitaliano sicura l'uscita di Stranieri, un altro vecchio condottiero, vecchio pirata del mondo della prima categoria e non solo che coscegliendo il tempo giusto va a bloccare questa incursione di Procopio che per poco non poteva far male all'Eurogini Falco quando sono passati soltanto due minuti e una manciata di secondi dall'inizio del match un match che vede il Giri Falco schierato con almeno due attaccanti veri e forse uno a sostegno. Attenzione perché il lancio è per Gualtieri chiuso subito da un buon rientro di Burdino ottima la sua diagonale in questo caso però poi cerca di dribbrarsi da solo ci riesce, evita voci, tocca per Touret che il lancio però viene intercettato da Mellace che mette in mezzo per Procopio si gira e di sinistro impegna in una parata in due tempi Stranieri che riesce comunque a essere ben posizionato e quindi ad annullare il rischio. Ecco che Stranieri fa rimbalzare la palla diciamo è la grandezza della tribuna stampa Mister Viterbo e Mister Sestito si sono messi proprio in fondo nella saletta numero 5 perché voglio la loro tranquillità però potremmo invitarli un attimo ad avvicinarsi almeno uno dei due per sapere quali sono gli schemi delle due squadre Mister Sestito un suggerimento se diciamo che il Montepaone è messo con un 3-4-3 diciamo una grossa sciocchezza Secondo me diciamo quello che vedo è il girifalco giocare con un 3-4-3 mentre il Montepaone sta giocando con un 4-3-3 E quindi sono due allenatori che si danno battaglia e che soprattutto sul piano tattico danno il meglio di sé Sì, i due schieramenti lasciano intendere che tutte e due le squadre se la vogliono giocare Ok, ringraziamo Mister Sestito sempre disponibile Procopio, tocco la palla viene svirgolata Marco Voci ma l'arbitro annulla annulla il gol per un fuorigioco ha alzato il braccio e ha fischiato quest'anno accanto al monitor di servizio Giuseppe Ragneri e anche Lavarre quindi sarà lui a dirci se era vera questa scelta dell'arbitro No, no, il fuorigioco c'era fuorigioco c'era, era netto E quindi quando erano passati soltanto 4 minuti da notare sui nostri tacquini un gol annullato a Marco Voci per fuorigioco intanto è Davide Quirino che punta con Idi si accentra tutto di destro tenta la fucilata tiro velleitario ma va premiata la voglia di questo giocatore che ha segnato un po' in tutte le categorie ma non sono pochi quelli che oggi accanto ai giovani, ai millennials a quelli che vengono dalla cantera hanno esperienza da vendere e hanno deliziato spettatori di tante squadre di tante categorie nell'ambito della regione Calabria il tocco laterale è a favorire Bassi Demasi che controlla il pallone cerca poi di appoggiarsi all'indietro sceglie poi il tocco per il numero 13 Cannistra che si appoggia a sua volta a Lombardo e il Montepone con grande ordine inizia a complicarsi la vita a Lombardo ma poi rilancia dove c'è Ienco che tocca di testa imbeccando il numero 19 Gualtieri che caracolla sulla sinistra evita un avversario ma non riesce a coprire l'intervento di Touret che poi in velocità evita due avversari e rilancia un giocatore atleticamente ben messo gli ultimi due rilanci che ha fatto che poi sono anche i primi due suoi della partita non sono stati precisissimi e Mellace che riceve il pallone viene contratto dall'intervento di Conidi si tratta di Domenico la palla finisce a Paparazzo che cerca di imbeccare l'attaccante ma si chiude la difesa del Montepaone mentre intanto vediamo un taglio in diagonale ci sembra di Doria che attraversa tutto il campo in bello stile l'abbiamo riconosciuto dal passo alla Ronaldo mette in mezzo di esterno la palla finisce a Marco Voci che tira in maniera sicura un po' come ha fatto Mandzukic ieri nella partita della Juventus e anche qui Stranieri si supera rispondendo alla grande al tiro di sinistro di Marco Voci e quindi mantenendo la porta inviolata clean sheet quando siamo al sesto minuto del primo tempo è uno Stranieri che si è già messo in evidenza due volte anche se la difesa dell'Eurogiri Falco e quindi immaginiamo un po' la rabbia di mister Cristofalo si sta dimostrando un po' in difficoltà sulla fascia della propria sinistra quella dove attacca la destra per il Montepaone che attacca il lancio impreciso non vede il tocco di testa di Touret e la palla finisce in rimessa laterale salutiamo anche quest'anno ma sempre perché ci stanno simpatici i numerosi raccattapalle della scuola calcio del Montepaone sempre pronti e speriamo quest'anno con un anno in più di esperienza più bravi e ordinati il lancio in profondità vede saltare di testa il difensore il numero 5 Ferraina ma è ancora Ferraina che arpiona la palla e cerca sulla sinistra Quirino Quirino si accentra e questo probabilmente il movimento calibra un pallone delicato verso Conidi ma è sempre lui Ienco che fa la diagonale come da manuale del calcio appoggia il pallone poi a Mellace e lo scambia due volte con il Guerriero e alla fine sbaglia toccando per Conidi attenzione perché Quirino riceve praticamente da solo ha di fronte a sé Canistra rientra anche l'altro Conidi la palla viene messa in mezzo saltano Ienco e il numero 10 Domenico Conidi e la palla si spegne sull'out e in questo caso notiamo che Ienco è saltato bene ha dato quel colpetto che senza essere fallo come ci confermano anche i numerosi arbitri qui presenti senza essere fallo fa un po' perdere l'equilibrio a chi salta e quindi risulta essere molto utile scambio difensivo tra Bassi De Masi Canistra e Lombardo e poi è proprio Lombardo che apre dall'altra parte verso Conidi lascia rimbalzare la palla la raccoglie controlla e poi lancia in profondità per lo scatto di Paparazzo interviene con sicurezza Signorello toccando poi per il numero 5 Ferraina che però non riesce a servire un suo compagno solito consueto abituale lancio preciso di Mellace per il numero 3 Ienco che scambia in maniera elegante con Gualtieri ma si chiude la difesa con Palaia e riparte ancora l'Euro Girifalco affidandosi al difensore basso sul settore destro della zona d'attacco del Girifalco il pallone però non viene controllato da Conidi e finisce in rimessa laterale per un Monte Paone che sicuramente sta avendo caro Giuseppe un predominio territoriale nei confronti di un Girifalco che invece sta ancora cercando le misure ma mi sembra che piano piano le stia trovando Sì il Monte Paone sta esercitando la sua supremazia territoriale come consueto alla squadra che recita in casa il suo ruolo però l'Euro Girifalco sta cercando di pungere anche se ancora deve rodare bene i meccanismi perché abbiamo visto un buon Quirino che si è proiettato per ben due volte sull'errore di Ienco l'ultima volta per cui è un match ancora che è tutto da giocare il Monte Paone sta cercando la strada del gol ma ancora la partita è tutta da giocare ed ecco che esce bene su Quirino proprio con Iri si tratta di Nicola che parte in velocità Quirino ritorna ma il tocco è per Marco Voci ha di fronte a sé soltanto Vincenzo Vitaliano si allarga verso Gualtieri ed è una pozzanghera a fermare il tocco delicato Gualtieri arriva lo stesso a tirare ma ha perso efficacia un tiro di destro a rientrare e qui Stranieri riesce a bloccare con tranquillità notiamo che la pioggia di mezzogiorno oggi sul comprensorio tra Soverato e Montepaone ha un po' allentato il campo l'abbiamo controllato insieme ai giocatori all'inizio della partita non è niente di grave ma sicuramente qualche piccola pozzanghera c'è il signor Petrosino fa sentire il suo fischio per un fallo del numero 6 Palaia e riparte ancora il Montepaone con la chiusura di Ferraina che evita che il pallone finisca tra i piedi di Doria che continua a muoversi all'incirca all'altezza dell'estrema destra della zona d'attacco del Montepaone e sarà sempre Conidi ci sembra che sia l'unico ad avere tutte le scarpette verdi perché ormai le scarpette cambiano anche colore la destra e la sinistra che effettua appunto questa rimessa nei confronti di Doria stop di Doria però chiuso dal raddoppio dei difensori dell'Euro G di Falco Conidi lascia andare un pallone morbido che arriva a Ienco va di fronte a Seturei si gira Veronica mette in mezzo il pallone ma poi è Vitaliano che alza un campanile e rinvia il pallone dove c'è Trino questo fuoricuota che si muove bene si gira e cerca di servire il numero 10 Domenico Conidi chiuso da un canistrà superiore fisicamente in questo caso e la palla viene appoggiata a Bassi De Masi che la scambia ancora con il centrale canistrà che ricorda per chi ha una certa età Sergio Brio che riceve la palla dopo aver scambiato anche con Lombardo e dire Sergio Brio significa parlare di un campione chiaramente il tocco ancora per Conidi Conidi alza la testa ma poi preferisce appoggiarsi verso Paparazzo sventagliata a cercare l'inserimento di Ienco Seturei che fa buona guardia ma attenzione un errore di Ferraina torna sul pallone Vonella che evita l'intervento di Doria e appoggia all'indietro verso Signorello Signorello di sinistro serve perfettamente Paparazzo si allarga per Procopio tenta il tiro scivola sul terreno Subdolo è sicuramente non solido per quanto riguarda l'aggancio dei tacchetti su di esso e Procopio Salvatore non riesce a centrare lo specchio della porta siamo giunti all'undicesimo minuto del primo tempo tra Real Montepaone ed Euro Gini Falco il risultato è sempre di 0 a 0 con stranieri che rinvia ben oltre la metà campo a cercare appunto però soltanto la difesa del Montepaone che si chiude molto bene con Domenico Conidi che cerca di andare a pressare sul portiere ma la palla poi viene arpionata dal numero 8 Vonella gli ruba il pallone alla Mandzukic Salvatore Procopio si appoggia poi su Mellace scambio con Conidi Doria Conidi e Mellace dialogano ad alto livello per quanto riguarda la cultura calcistica il lancio è verso Paparazzo si gira di fronte a sé Signorello lo punta e poi mette in mezzo un pallone per lo scatto di Doria e qui forse Vitaliano poteva lasciare uscire stranieri che probabilmente gli ha chiamato il pallone e abbiamo il primo calcio d'angolo per il Montepaone con la possibilità quindi di vedere uno dei classici schemi su palla da fermo e su calcio dalla bandierina che Mr. Pisano fa provare e riprovare in allenamento vediamo che sarà proprio Paparazzo probabilmente calcerà di destro ad uscire mentre Mellace è vicino a lui per lo scambio con Domenico Conidi che cerca di disturbarli e parla con l'arbitro chiedendo appunto la distanza scambio con Mellace raccoglie il pallone cerca di crossarlo radente il cross e il numero 15 Signorello poi ci pensa Quirino a colpire di testa e cerca di andarsi in velocità palaia che punta l'avversario poi si ferma si appoggia su di un compagno pressato molto bene da Gualtieri che in ripiegamento difensivo è riuscito a recuperare il pallone e Procopio che fa sportellate e poi mette in mezzo dove arriva di corsa voci ma c'è anche stranieri con la sua elegante maglia gialla con banda tipo Brescia di colore nero a recuperare il pallone e a toccare per Turet che guadagna intanto una rimessa una rimessa laterale probabilmente anche qui ci vorrebbe la VAR perché qualcuno parla di rimessa a favore del Monte Paone ma noi siamo per un calcio tradizionale il calcio che ci piace senza artifici tecnici e con quegli errori che tanto poi fanno parlare al barri il lancio intanto in profondità è per Trino chiuso molto bene da Bassi De Masi e tocca anche all'Eurogiri Falco battere un calcio d'angolo e se ne occuperà Quirino che c'ha sicuramente sia la forza sia la precisione per imbeccare uno dei lunghi vediamo che sta scendendo anche Palaia attenzione a Vonella insomma ci sono almeno dal nostro conteggio sei giocatori dell'Eurogiri Falco in aria marca zona il Montepaone arriva il pallone colpo di testa in due si tratta di Vonella e Touret viene chiamato il tutti fuori da parte di Lombardo il tiro rimbalza su un difensore e Lombardo recupera il pallone poi innesca lo scatto di Gualtieri che recupera palla innesta la marcia alta parte in velocità sovrapposizione di Ienco Gualtieri però viene fermato con grande esperienza da Palaia non c'è fallo è un'entrata decisa e riparte ancora il girifalco con Vonella lancio a cercare Quirino ha di fronte a sé Bassi De Masi che copre il pallone evita in bello stile anche Quirino si appoggia a Cannistra che con calma olimpica tocca poi per Paparazzo che si è centrato e apre a colpo sicuro verso Conidi controllo dell'esterno basso di destra del Montepaone scambio con Doria e poi Paparazzo soprattutto su quella fascia la catena di destra che il Montepaone sta macinando maggiormente gioco il lancio di Doria però non vede premiato lo scatto di Procopio e stranieri ancora una volta con grande tranquillità appoggia poi a Vitaliano si tratta di Vincenzo Vitaliano un'altra vecchia volpe del mondo del calcio che tocca per Quirino l'appoggio è per Vonella che parte in velocità sulla sinistra cerca di mettere in mezzo la palla viene toccata da un difensore si trattava di Cannistra e vediamo che Ienco si va a prendere mordendo palla erba e caviglie dell'avversario si prende materialmente il pallone tocca per Mellace e si ricomincia a ragionare con Bassi De Masi che riparte ordinatamente appoggiandosi al centrale difensivo Cannistra e ancora Paparazzo il tocco però è impreciso c'è Vonella che di lì sta facendo arcile serve per Quirino classica andatura e passo di Davide Quirino che si accentra salta un paio di avversari cerca il fallo con grande esperienza Petrosino è lì vicino e dice di no riparte ancora il Montepaone Marco Voci che cerca di imbeccare Procopio che riceve la palla un po' defilato sulla sinistra non riesce a controllarla e questa volta il pallone è finito in out siamo quindi giunti al quarto d'ora sedicesimo minuto del primo tempo il risultato è ancora di 0 a 0 e dal coordinamento ci segnala Adele Chiaravallotti che è tutto a posto per poter continuare a elaborare questa trasmissione sportiva Giuseppe dicevamo intanto che il Montepaone sta agendo però in rimessa con le ripartenze il Euro Girifalco si fa rispettare mentre intanto Palaia si becca un bel cartellino giallo per un'entrata forse troppo decisa sì no possiamo dire che il Montepaone sta giocando bene sia in fase difensiva che in fase offensiva con tutti i reparti corti il Girifalco l'Euro Girifalco sta subendo l'iniziativa però prova nelle ripartenze a cercare di sorprendere la difesa ospite però abbiamo visto una bella linea difensiva del Montepaone che per ben tre volte è riuscita a sopperire all'iniziativa ospite e intanto Palaia che non si risparmia anche uno scambio di opinioni con mister Pisano che riceve il cartellino giallo e quindi era già entrato in maniera decisa ma mentre prima si trattava solo di una spallata stavolta veramente ha cercato di portarsi a casa un paio di pezzi dell'avversario Petrosino ricorda sia Palaia che a Pisano che non si dialoga se non in maniera corretta e la partita ricomincia con il colpo di testa che favorisce ancora Palaia che controlla ma Gualtieri gli va a rubare la palla con decisione e stavolta è Palaia che riceve il fallo c'è un attimo di nervosismo perché Gualtieri lo stava marcando con decisione forse Palaia ha avuto una piccola reazione comunque niente di grave con Petrosino che va ad accertarsi insieme a mister Cristoforo dello stato di salute del numero 19 del Monte Paone che però mi sembra si sia tranquillamente ripreso e allora possiamo sfruttare mister Viterbo che se il Cortese Vente si avvicina poi le chiediamo perché nello stanzino numero 5 della tribuna stampa quando siamo qua di solito tutti raccolti vicino mister la vigor la mezzia per noi è un mito insomma e ieri mi sembra che abbia pareggiato ma oggi qui sta osservando il prossimo avversario il Monte Paone si è una squadra ben schierata e cerca di fare gioco anche su un campo che non è nelle migliori condizioni è una bella partita comunque tutte e due le squadre sono ben messe in campo la domanda è quella che abbiamo fatto anche al mister Sestito quali sono i due schemi come stanno giocando le due squadre un 3-4-3 un 4-3-3 un 3-4-3 del Monte Paone un 4-3-3 del Giri Falco tutte e due squadre offensive infatti già sono viste tre occasioni niente l'ultimo disturbo la Vigor Lamezia è condannata a vincerlo questo campionato sicuramente lotterà fino alla fine poi è sempre il campo che emette il suo verdetto cercheremo di far nostro il campionato comunque sappiamo che ci sono delle ottime avversarie e lotteremo fino alla fine ringraziamo mister Viterbo io ricordo che tutti gli allenatori che ho conosciuto quando incontravano Viterbo negli spogliatoi dicevano ai giocatori attenzione che c'è Viterbo è vero qualche gol diciamo che l'ho fatto quindi forse per quello grazie mister ecco che intanto c'è una punizione attenzione ai 35 metri abbondanti c'è Quirino che sta per far partire il proprio destro si è disposto a barriera 4 parte Quirino delicato il tiro buona la posizione del numero 1 Lombardo che rende facile una parata che poteva essere difficile Quirino modello Pjanic ma Lombardo modello Buffon e quindi riparti ancora Mellace che è il solito metronomo del centrocampo il lancio di destro a favorire Gualtieri il tocco Perienco ma Petrosino intuisce più che altro un tocco col braccio di Gualtieri e la palla finisce nella competenza territoriale dell'Eurogirifalco che con Vincenzo Vitaliano tocca per Vonella Vonella di destro a cercare ancora Quirino punto di riferimento offensivo e non solo di una squadra comunque ricca di talenti Quirino si appoggia ancora a Vonella controllo di destro ha di fronte a Seme Lace un muro probabilmente insuperabile allarga per Touret Touret controlla la palla quasi triplicata già la marcatura e poi Vonella che mette in mezzo cerca il colpo di testa con Idi ancora la palla che si impenna resta lì e Trino di destra non teme a tirare in corsa al volo ma la palla finisce in out rimbalzando sul colpo di un giocatore dell'Euro Giri Falco e ancora il Montepaone che manovra con calma il che significa che c'è personalità e c'è anche qualità tecnica con Bassi De Masi che cerca di lanciare in profondità ma la palla finisce tra i piedi di Mr. Cristoforo diceva un mio amico che il pallone va tra i piedi di chi sa giocare a pallone Mr. Cristoforo comunque lascia scorrere e permette poi ai suoi giocatori di battere la rimessa laterale rimessa laterale affidata ancora all'Euro Giri Falco con il numero 7 Burdino che riceve sulla linea tocca per Palaia ancora una finezza ma se ne va Ienco toccando per Paparazzo controllo di destro parte in velocità Marco Voci ottima la chiusura ci sembra di Ferraina che evita appunto la ripartenza mentre invece c'è Bassi De Masi che ha a che fare con Trino la palla viene messa in mezzo chiama il pallone Lombardo mentre qui in tribuna molti parlavano di fuorigioco effettivamente forse non era niti dalla posizione di partenza ma Petrosino ha deciso che andava bene così e noi ci uniformiamo viva Petrosino il tocco in profondità a cercare l'inserimento deciso l'intervento di Ferraina perché butta giù Doria e questa volta non è una spallata però è all'esterno dell'area di rigore e quindi ci sarà un interessante calcio piazzato praticamente un corner corto dove probabilmente o Paparazzo o Mellace potrebbero mettere in mezzo un pallone veramente interessante ventunesimo 49 secondi e una manciata di non so che cosa saranno decimi o centesimi il risultato è sempre di 0 a 0 con Paparazzo che oggi se non vado errato porta la fascia di Capitano che di destro proverà a mettere in mezzo per un Montepaone che schiera praticamente 5 giocatori anzi 4 all'interno dell'area e 2 appena ridosso pronto però soprattutto Cannistrà a partire cercando di sfruttare i centimetri in più che nutre rispetto agli altri giocatori forse escluso soltanto Palaia l'arbitro ha controllato e tutto va bene marca zona anche l'Eurogirifalco ai miei tempi si diceva di marcare a uomo la palla è calciata lunga colpo di testa di Conidi mischia Cannistrà c'è un batti e ribatti la palla rimbalza sui piedi di Conidi e finisce in rimessa laterale però a favore se non vado errato dell'Eurogirifalco e intanto vediamo che Maurizio Vatrano sta già raccogliendo dati però mi sa che i suoi dati funzioneranno soprattutto alla fine della partita ma possiamo se il microfono ci assiste già dare qualche elemento quanto stanno correndo Maurizio? Salve come in effetti ha detto lei i dati ancora sono pochi per dedurre il gioco che si sta manifestando dalle due parti dopo 20 minuti un consiglio a mister Pisano da dare poi nella riunione tecnica di martedì non ce l'abbiamo già indipendentemente dai dati penso che sia più un discorso di precisione perché gli spazi ci sono soprattutto da parte del Monte Paone è vero che con semplici passaggi si può arrivare all'interno dell'area avversaria un po' di attenzione di precisione penso che non ci siano problemi grazie e buon lavoro come al solito è un piacere averti accanto qui in Tribuna Stampa e intanto c'è un altro calcio d'angolo in favore del Monte Paone con battuta corta paparazzo che riceve sovrapposizione di Doria mette in mezzo il pallone Vitaliano lo fa impennare Conidi colpisce di testa con decisione e la palla finisce in out ancora 0-0 e a questo punto c'è rimasto nel giro della Tribuna Stampa soltanto Mimmo Cosentino che è lì che prende appunti da circa un quarto d'ora vorrà darci un parere su questa prima parte del primo tempo Mimmo Cosentino o è concentrato a sapere i risultati sugli altri campi Mimmo appoggiali perché il microfono non arriva beh fino a questo momento stiamo vedendo un Monte Paone che sta cercando di ottenere la rete e forse fino a questo momento se la sarebbe meritata ha avuto tre o quattro occasioni ma è stato bravo anche stranieri a neutralizzare Mimmo però qua lo sai che gli spettatori da te si aspettano sempre qualche chicca o di mercato o qualche un po' come Pedullafe Sport Italia tu sei Cosentino per S1 TV c'è qualche notizia da dare? ma attualmente attualmente quello che è stato è stato insomma adesso si aspetta a dicembre per il prossimo mercato abbottonatissimo ma sempre informatissimo grazie Mimmo Cosentino ritorniamo in telecronaca con Cannistrache visto il sopraggiungere di Trino decide di mettere la palla in rimessa laterale e c'è una geometria che non è stata compiuta dai giocatori dell'Eurogirifalco e mister Cristofaro si è arrabbiato uscendo dall'area tecnica intanto il colpo di petto di Conidi favorisce Doria Doria si accentra cerca di lanciare con precisione Gualtieri parte in velocità il numero 19 ma non riesce a controllare il pallone probabilmente ha fatto fare un rimbalzo in più e sull'erba leggermente umida la palla è schizzata via andando poi troppo lontano dai piedi del numero 19 del Montepaone dicevamo degli inserti giallo-verdi del Montepaone orizzontali dalla parte anteriore della maglietta mentre invece sono verticali sulla parte posteriore all'altezza del numero e intanto si scaldano i tifosi perché c'è anche una rappresentanza dei tifosi del Girifalco sappiamo che qui si mastica calcio sulle tribune del Frabotto Mannis di Montepaone intanto Petrosino ha fischiato qualcosa e riparte il Montepaone con una rimessa in favore di Cannistrà che appoggia subito per Mellace che preferisce toccare all'indietro per Lombardo esce dall'area di rigore il verde portiere del Montepaone e si appoggia a sua volta per Cannistrà il destro di quest'ultimo non parte perché di sinistro appoggia ancora Lombardo e con pazienza si cerca di imbeccare Paparazzo ottimo lo stop lo scambio favorisce Marco Voci che senza toccare più di una volta la palla apre subito per Gualtieri palla in mezzo verso Procopio si apre tocca Doria e poi il colpo di testa del numero se non andiamo errati 5 Ferraina ha messo in calcio d'angolo la palla siamo al terzo calcio d'angolo in favore del Montepaone il primo però abbattuto dalla bandierina posizionata alla destra di Stranieri alla sinistra di noi che guardiamo insomma dal lato che state vedendo voi sarà Mellace a effettuare questo calcio d'angolo come al solito non è posizionata perfettamente la sfera ma in questo caso Petrosino è lontano e non c'è nessun assistente arbitrale che lo possa dire 27esimo minuto sta per partire il destro di Mellace movimento in area di rigore palla morbida arriva verso Marco Voci anticipato all'ultimo momento se non andiamo errati da Trino riparte con Idi è un 3 contro 3 praticamente con Quirino anzi non con Idi punta l'avversario evita un avversario si accentra Quirino gran tiro rispostissima di Lombardo che con calma a mani aperte riesce a ribattere un tiro indirizzato sotto la traversa aveva chiuso facendo un passo in avanti lo spazio di visuale e appunto lo spazio dove Quirino poteva mettere il pallone come direbbe Bruno Pizzulo tutto molto bello bravo Quirino bravissimo Lombardo riparte il Montepaone che dopo 27 minuti ha subito la prima azione pericolosa da parte dell'Eurogiri Falco un Eurogiri Falco velenoso perché stavolta il pericolo è stato tangibile e notevole riparte ancora Marco Voci si appoggia e caracolla scambia con Cannistrà poi apre verso Mellace forse forzando un po' il passaggio rischiando qualcosina troviamo ora qui Ienco che probabilmente si è invertito i ruoli perché in precedenza aveva coperto anche l'altra zona ma sappiamo che Ienco praticamente si muove anzi è mosso da mister Pisano in diversa maniera c'è un fallo da parte di Paparazzo se non andiamo errati e Quirino con esperienza si conquista questo fallo e questa munizione perché indubbiamente il calcio c'è stato Giuseppe però non è stato proprio dolorosissimo tu l'hai sentito? No da qui non si è sentito ma comunque il calcio c'è stato il calcio c'è stato non sarebbe andato giù così avrebbe tenuto il pallone quindi ammunizione giusta? Sì sì ci sta ci sta bisogna essere obiettivi poi dai ok sarà Paparazzo ammunito quindi quando siamo al 28esimo parlano Vonella e Vitaliano si sono schierati gli attaccanti dell'Eurogini Falco con gli inserimenti di Touret e di Palaia Palaia un po' centravanti aggiunto parte Vonella cerca il tiro importante la palla rimbalza su Mellaci ancora ci sembra che sia Trino che cerca una mezza rovesciata il pallone però finisce tra le braccia di Lombardo lancio lungo a cercare Procopio che approfitta dello svarione di un avversario e stavolta riceve un calcio dice Petrosino che si può continuare e qui appunto non sarà d'accordo Procopio che è rimasto dolorante il pallone comunque rimbalza ed è Burdino che probabilmente metterà fuori il pallone cercando poi di andare a vedere cosa è successo a Procopio sicuramente l'impatto c'è stato probabilmente non è stato ritenuto falloso da parte del signor Petrosino della sezione di Lamezia e anche qui appunto dobbiamo sottolineare come abbiamo fatto in apertura la difficoltà di un arbitro che in un mondo dove quando si muovono gli arbitri sono in squadre superiori quasi da calciotto si trova da solo a gestire comunque una partita e deve correre forse più di tanti altri arbitri di categorie superiori intanto Gualtieri strappando l'applauso ad altri giocatori e anche ai tifosi restituisce il pallone all'eroggi di Falco affidandolo ai piedi di stranieri che si prepara al rilancio anzi no appoggia la palla e rilancia poi con i piedi lancio lungo intercettato da Conidi stop di Doria alza la testa scambia con Mellace il tocco è per Procopio che fa un po' da centro avanti vecchia maniera torna indietro e apre spazi appoggia per Doria Marco Vosci non è fuori gioco Marco Vosci è miracolo di Burdino che va a togliere la pepita che Marco Vosci stava mettendo in porta intervenendo all'ultimo momento e anche qui permettetemi un applauso morale a entrambi i giocatori Marco Vosci ha fatto un tocco alla Dibala ma Burdino ha fatto un salvataggio veramente importante che vale quanto un gol e si ripartirà con il quarto calcio d'angolo in favore del Montepone solito schema esterno delicato di Mellace la palla rimbalza e Petrosino fischia probabilmente un fallo di confusione con Burdino stesso che era caduto a terra colpito da Cannistra e quindi togliendo un po' di gente dall'area di rigore e evitando che ci possano poi essere mischie o altro il rilancio impreciso da parte di Ferraina l'assistente arbitrale di parte segnala la rimessa e Petrosino gli dà credito questo è un fatto importante perché significa che si comincia a dare anche un'importanza a quel ruolo un po' obsoleto è relegato in un angolo degli assistenti di linea di parte sarà effettuata la rimessa con Procopio che di petto scambia con Doria si inserisce Signorello va in copertura mentre salutiamo attenzione Marco Voci interviene da solo davanti al portiere ma invece di tirare di destro stoppa di piatto sinistro e non riesce poi a trovare la coordinazione per dare il colpo di grazia in una situazione che lo vedeva sicuramente favorito lancio in profondità mentre come dicevamo salutiamo mister Viterbo che torna insomma a studiare gli schemi perché ricordiamo come ci segnalano dal coordinamento che la prossima partita sarà proprio quella che vedrà il Monte Paone alla Mezzia al Dippolito contro la Vigor la Mezzia intanto riparte ancora Rocco Ienco fermato da Ture bel giocatore anche Ture che è un 99 quindi ha un anno in più di Rocco Ienco sommati non arrivano alla mia età che riesce appunto a coprire la fascia e le azioni di questo giovanissimo Millennials che però ha già un anno di prima categoria alle spalle intanto Procopio non pone tempo in mezzo e commette un fallo sul numero 7 Burdino forse un fallo inutile come ci suggeriva Giuseppe Ranieri però uno di quei falli che fanno capire che in campo stiamo facendo un gioco maschio e il motivo per cui ti sei allontanato da me sai che ti avrei dato un calcio in questo momento ma no no che in campo ci sia un gioco maschio va bene però rischiare un'ammunizione inutile così non è intelligente perfetto ti ringrazio Giuseppe si prepara Vitaliano a calciare di destro mentre spunta il sole che bacia appunto il campo verde di Montepaone e anche i giocatori 22 giocatori che stanno appunto correndo e studando cercando di raggiungere entrambe per quanto riguarda entrambe le squadre il risultato della vittoria lunga rimessa di Ienco salta Touret colpisce di testa e la palla finisce in rimessa laterale ricordiamo a proposito dei tifosi che se il copyright dei tifosi del Montepaone è certamente quello di una tifoseria entusiasta e competente a giri falco insomma è un po' la culla del tifo e si riesce a dare degli spettacoli veramente importanti soprattutto in occasione di quelli che sono stati l'anno scorso numerosi derby ma sempre ecco si tratta di una tifoseria insieme a quella del Montepaone probabilmente di categoria superiore bel lancio di Trino che favorisce l'inserimento del numero 10 con Idi interviene con decisione e salva la situazione l'altro con Idi con un grande recupero e mettendo la palla in calcio d'angolo però ecco si è visto il girifalco l'euro girifalco che ha rovesciato la situazione e che con un solo lancio ha praticamente messo il giocatore si tratta di Domenico Conidi al cospetto di Lombardo intervento provvidenziale in questo caso di Nicola Conidi il numero 5 della squadra di casa ecco ancora Conidi che si dribbla da solo via interviene Gualtieri gli ruba la palla e poi cerca di coprirla evitando appunto sia il fallo sia di perderla il tocco favorisce Doria che si appoggia per Mellace lancio a cercare Rocco Ienco che però non riesce a controllare il pallone ritorna Marco Voci ottimo il recupero con il cambio di passo tipico del calciatore e che però si trova di fronte un Touré che combatte con la baionetta fra i denti e la palla finisce attenzione punizione battuta con palla in movimento e il pallone appunto dovrà essere ricalciato di nuovo dove vuole il signor Petrosino di Lamezia comunque abbiamo visto un bel gesto tecnico da parte di Marco Voci che cambiando passo è riuscito ad arrivare su un pallone prima che quest'ultimo uscisse oltre l'auto della linea laterale del campo sarà ancora Vitaliano che un po' il bombardiere se fosse una squadra nordcoreana sarebbe quello che spara i missili che calcerà cercando di coprire una distanza in questo momento di almeno di 40 metri favorendo gli attaccanti e vediamo sempre Palaia che si propone in attacco in queste fasi però il tocco di Paparazzo attenzione recupera Vonella fucilata ma la palla si spegne ben oltre la trasversale della porta difesa da Lombardo i raccattapalle hanno già fornito il pallone al numero uno al pipelè del Montepaone che scambia con Canistran ma vediamo che l'Eurogiri Falco va a pressare sul Montepaone in uscita è una mossa ormai classica quando qualcuno vuole ragionare e partire dalla difesa con la manovra dopo il quindicesimo l'Eurogiri Falco è cresciuto ed è venuto su è entrato in partita molto bene stiamo assistendo ad una gara aperta con continui stravolgimenti di fronte anche se il Montepaone dà qualcosa in più troppo spesso riesce ad arrivare dalle parti di stranieri però la gara è una gara aperta e ancora non si può dire come andrà a finire 36esimo 0 a 0 con Burdino che ha contrato un avversario in calcio d'angolo e quindi siamo al quinto calcio d'angolo del Montepaone con Mellace che scambia con Paparazzo che si aggiusta il pallone mette in mezzo una palla che era un po' arretrata nella zona di Bassi De Masi che ricalcia ancora ed è Vitaliano che colpisce di testa si fa un po' di ping pong Doria il numero 11 Quirino toccala per Vonella scambio e cerca di lanciare in profondità Trino che però questa volta non parte e quindi alla meglio Bassi De Masi che tocca per Canistra in questo momento un po' fuori posizione perché sta rientrando dopo il calcio d'angolo ecco che ancora Doria ragiona su Mellace Palaia gli va a mordere un po' le ginocchia per quanto riguarda Mellace il pallone viene intercettato da Petrosino l'arbitro fa gioco e riparte il Montepaone triplicata la marcatura Doria entra in velocità dribbling stretto sbaglia l'ultimo tocco ma la palla finisce ancora a Paparazzo tambureggiante l'attacco del Montepaone modello rugby Marco Voci fermato con decisione da Touret che conferma appunto la sua abilità come difensore ma la necessità ancora di qualche momento educativo per quanto riguarda il lancio e quindi la gestione del pallone dopo averlo conquistato ecco che Mellace alza la testa cerca di imbeccare Voci e stranieri esce con la gamba alzata ma come debbono uscire i portieri per far paura agli attaccanti anche se in questo caso forse ha toccato Marco Voci ma il portiere dice mia e nessuno più gli si avvicina vero Giuseppe? Ebbè sì però lui ci ha provato chiaramente quindi c'è stato questo contatto ma ci sta tutto il calcio è fatto così è uno sport anche di contatto per cui lui ha fatto bene a provarci Marco Voci ma il portiere ha avuto la meglio e intanto c'è un giocatore ci sembra si tratti di Palaia proprio che è rimasto a terra e allora noi approfittiamo Mister Sestito Mister Viterbi è andato via vi vogliamo più vicino vicino a Mimmo Cosentino come si stanno un po' rinfrescando tutti i giocatori quest'anno si potrà pure eventualmente rinfrescarsi con i time out anche se mi sembra più nelle categorie professionistiche che nelle nostre sì anche perché da noi il bel tempo dura però non siamo in situazioni da time out magari questo potrebbe succedere poi aprile maggio quando ci sarà il ritorno del gran caldo ma l'occhio dell'allenatore cosa sta vedendo cosa potrebbero fare entrambe le squadre anche se non si può diamolo un consiglio sia a Mister Pisano che a Mister Cristofano no soltissimamente non mi permetterei mai diciamo che la partita era iniziata con un Montepone che sembrava in partita che avesse la partita veramente in pugno poi piano piano il giro di Falco si sta riassestando sta difendendo meglio e parecchie volte poi ha cominciato anche a punzecchiare in contropiede e a rendersi pericoloso diciamo che la partita è giocata a viso e perso in entrambe le parti tutte e due le squadre stanno creando il Montepone ci arriva magari con un gioco un po' più manovrato mentre il giro di Falco ci arriva più con le ripartenze puntando soprattutto su Quirino noi amiamo Mister Sestito in quanto grande allenatore ma quando fa l'opinionista è anche lui un signor opinionista lo sappiamo bene ormai da anni Palaia intanto si sta riprendendo anche se Mister Cristofaro ha fatto riscaldare altri giocatori ma Palaia non molla Palaia torna in campo intanto il pallone arriva in profondità verso Gualtieri forse troppo in profondità riesce a controllare il pallone no non ci riesce e Ture alza le mani dice io non ho fatto niente ha fatto tutto lui rimessa laterale in favore dell'Eurogiri Falco squadra europea nata con questo nome quando si parlava del cambio di moneta e quindi una scelta innovativa anche in questo campo per quanto riguarda il nome e intanto Ienco Turei gli ruba la palla appoggia per Quirino che si è spostato a destra interviene Mellace non si passa probabilmente ha ricevuto un colpo Quirino e Mellace molto correttamente anche se non convintissimo mette la palla in out però Quirino sicuramente ha preso un colpo involontario al volto e si è fermato con Petrosino che gli parla nell'orecchio per dirgli qualche cosa rimarremo per sempre col dubbio di cosa abbia detto Petrosino a Quirino però sicuramente sono quelle parole che durante la partita fanno sì che l'arbitro faccia sentire il peso della propria personalità e intanto Burdino effetta la rimessa laterale per Vincenzo Vitaliano che giustamente restituisce la palla quando entriamo negli ultimi quattro minuti del primo tempo il risultato è sempre di 0-0 tra Real Montepaone e Eurogiri Falco elegante Mellace che poi cerca di appoggiare per Procopio capisce tutto Burdino e se ne va anzi Vonella e se ne va in velocità con Gualtieri che protegge il pallone e addirittura poi chiama in causa Lombardo che controlla bene di piede e poi rinvia verso Doria vediamo lo stop di Doria anzi un colpo di testa a seguire che però non favorisce nessuno i suoi compagni sale al secondo piano Cannistrama non riesce a prendere la palla che finisce tra i piedi di Bassi De Massi con Trino che va a dare fastidio insieme a Domenico Conidi alla ripartenza della manovra ragionata e organizzata del Montepaone Doria per Paparazzo ancora la catena di destra che funziona si accentra Doria si appoggia per Voci controllo elegante rinviene Palaia su di lui ma Voci si libera il pallone per Ienco Ienco fa tutta la fascia sinistra mette in mezzo il pallone non lo favorisce il rimbalzo falso sull'erba e la palla finisce lontano lontano nel vento mentre il raccattapalle va a raccoglierla e Stranieri riceve il secondo pallone scambia subito con il difensore si dovrebbe trattare di Ferraina che ristituisce la palla a Stranieri con Procopio che lo va a disturbare ripetiamo Procopio rappresenta un po' le qualità tecniche e quelle qualità di lotta che ritroviamo in giocatori del tipo di Mandzukic intanto Lombardo recupera il pallone a qualche metro di fronte a sé Mellace riesce a controllare il pallone poi si appoggia ancora Bassi De Masi con Quirino e Trino che vanno comunque a dare fastidio pressando allungano sì la squadra dell'Euro Giri Falco ma impediscono al Montepaone di ripartire con tranquillità Paparazzo sempre elegante si appoggia per Mellace controllo del numero 4 il guerriero appoggia poi in zona con Idin proiezione offensiva d'esterno basso perché però preferisce toccare per Paparazzo e poi Voci si illumina la situazione gran tiro di Voci una staffilata di destro di collo destro e quando siamo al 43esimo Stranieri ha visto andare lontano ma non lontanissimo dal palo alla propria destra l'iniziativa di quel Marco Voci bomber e trascinatore di una squadra quale quella del Montepaone che l'anno scorso avrebbe forse meritato un posizionamento migliore nella classifica finale del campionato di prima categoria parte Stranieri la palla si impenna e supera la metà campo dove c'è Conidi che di testa manda lontano il pallone troppo lontano nella zona dove c'è Signorello che controlla e poi affida a Ferraina per la rimessa laterale sarà proprio Ferraina quando siamo al 44esimo in corso del secondo tempo a fare controfallo sbagliare la rimessa laterale e quindi dare la possibilità al Montepaone di costruire un'ennesima azione offensiva manovrata con Conidi questa volta le maniche corte di Conidi non ci spaventano perché siamo in un autunno praticamente estivo qui a Montepaone e il tocco di Conidi vede arrivare però Burdino che non riesce però a mandare via la palla ancora un paio di rimbalzi Ienco sinistro gran tiro Touret probabilmente colpisce di mano ma aveva le braccia attaccate al corpo in questi casi servirebbe la VAR ma soprattutto serve la voglia del Montepaone Ienco grandioso per Paparazzo arriva recupera il pallone si appresta a fare il cross di destro la palla arriva al centro dell'aria e ci pensa Ferraina a mettere in calcio d'angolo ma il Montepaone è stato veramente trambureggiante Giuseppe il monitor di servizio cosa ci dice era rigore? No no il braccio era attaccato al corpo intervenuto correttamente quindi no il rigore non c'era e queste braccia che continuano a rimanere attaccate al corpo sono comunque una garanzia di integrità fisica dei giocatori Paparazzo tocca per Mellace ha di fronte a sé un avversario tenta all'esterno palaia spazza via recupera ancora Gualtieri elegante nel controllo poi tenta il tiro ma viene sbilanciato da un avversario e la palla finisce fuori per un calcio di rinvio e ora dovremmo vedere dovrebbe alzare il braccio il signor Petrosino perché siamo al 45esimo e sarebbe interessante se lui ci dicesse quanti minuti di recupero vuole assegnare per quanto è successo nella prima fase di gioco in questo primo tempo che si sta disputando qui al Frabotto Mannis comunale di Montepaone la palla arriva in aria colpo di testa di Bassi De Massi recupera il pallone Paparazzo si appoggia a Cannistra ragiona continua a ragionare il Montepaone cercando di tirare fuori almeno tatticamente l'Eurogiri Falco ma mister Cristoforo ha ben disposto le sue pedine in campo il tocco di Ferraina a sventagliare nella zona di Quirino e ancora poi Doria Ferraina non si riesce a mettere a terra la palla ci riesce Ferraina Madoria gli ruba la palla Mellace Paparazzo Mellace che alza il pallone e a questo punto si mette in bocca il fischietto il signor Petrosino e manda tutti a prendere un tè caldo o comunque a riposarsi negli spogliatoi così come facciamo noi insieme all'esterna 65 di S1 TV dandovi appuntamento al secondo tempo giusto tra un quarto d'ora e ricordandovi il risultato finale di questa prima frazione di gioco Real Montepaone 0 Euro Giri Falco 0 grazie per l'attenzione sentite spettatori bentornati per gustare insieme a noi la squadra esterna 65 di S1 TV guidata da Anton Luca Franco con l'opinionista della Gazzetta del Sud Giuseppe Ranieri il coordinamento di Adele Chiaravalloti e la voce di Giorgio De Filippis dicevamo per gustare il secondo tempo di Real Montepaone Euro Giri Falco la prima frazione di gioco si è conclusa con un nulla di fatto reti bianche 0 a 0 però è stato un primo tempo interessante mentre il signor Petrosino col suo fischietto dà il via alla seconda parte delle ostilità chiamiamole così sempre al punto di vista sportivo tra le due squadre ricordiamo Montepaone in tenuta bianca con inserti giallo-verdi totalmente verdi e calzettoni neri per il Giri Falco dal coordinamento ed è fondamentale che ce lo segnali Adele Chiaravalloti ci dice che è uscito Palaia ed è entrato Rando quindi il secondo tempo vedrà l'assenza del numero 6 dell'Euro Giri Falco e l'ingresso del numero 4 due giocatori che si equivalgono tecnicamente probabilmente Giuseppe Palaia ha risentito dei colpi ricevuti all'inizio durante il primo tempo si è molto probabile che abbia risentito di qualche contrasto nel corso della prima frazione di gioco ha giocato un'ottima gara lo possiamo dire perché è stata una pedina importante per l'Euro Giri Falco però il cambio non cambia la natura tecnica dei due calciatori per cui non c'è nulla di nuovo si può anche dire e intanto Doria scatenato arriva fino al limite dell'area piccola del portiere alla fine si fermano tutti la palla finisce in out e Petrosino decide che l'ultimo a toccarlo è stato un giocatore del Montepaone Doria aveva travolto un po' tutti gli avversari e poi alla fine non è successo niente anche se eravamo a pochi metri dalla porta difesa da stranieri che ora si prepara appunto ad un rinvio con i piedi dalla propria area del portiere sempre dal coordinamento ci segnalano che i risultati del sabato hanno visto Pianopoli e Chiaravalle pareggiare per 2 a 2 Tropea e Vigor Lamezia hanno pareggiato per 1 a 1 le prossime partite e quindi saranno le seguenti come abbiamo già detto il Montepaone andrà alla Mezia a incontrare la Vigor mentre l'Euro Gifalco ospiterà la Serrese squadra ostica partita magari male in questo campionato ma di quelle che bisogna sempre affrontare con grande attenzione c'è intanto Vonella che cerca di rubare palla a Paparazzo il pallone finisce a Trino ma esce con grande personalità a Paparazzo e va subito a lanciare un compagno lancio verso Marco Voci esce Stranieri di sinistro senza fronzoli mette la palla in out ricordiamo che Stranieri è uno di quei portieri che sanno usare bene sia destro che sinistro e il Montepaone ricomincia a muoversi sullo scacchiere di gioco con Mellace la palla viene svirgolata da Signorello e finisce in calcio d'angolo e quindi ci apprestiamo a vedere il primo angolo del secondo tempo nel complesso dovrebbe essere il settimo della partita in favore del Montepaone consueto schema Paparazzo Mellace si avvicinano tutte e due con il supporto anche di Doria è una ripetiamo una catena di destra importante ma batte Mellace la palla arriva al centro dell'aria colpo di testa ci sembra di Conidi la palla viene poi rinviata e tocca poi a Bassi De Masi recuperare il pallone era l'ultimo giocatore rimasto a rimetterlo ancora in mezzo tocco di Conidi per Marco Voci non sono d'accordissimo i giocatori del Montepaone e noi ci appoggiamo a Giuseppe Ranieri l'uomo Var no no non sono d'accordo neanche io effettivamente era tenuto in gioco da una pedina da un loro difensore è partito poi dopo l'invio della palla per cui non era fuori gioco e se a Giuseppe Ranieri davamo credito a prescindere ora che ha questi importanti mezzi tecnici crediamo ancora di più il tocco è ancora per Doria che mette in mezzo verso Marco Voci Marco Voci e segna con decisione ma l'arbitro annulla e anche in questo caso ha visto il fuori gioco in partenza da parte di Marco Voci sarebbe stato il primo gol di Marco Voci però c'è stato anche un infortunio era partito in fuori gioco qui serve un'analisi tecnico-tattica si stanno consultando in parecchi Giuseppe Mimmo Cosentino annuisce a me è sembrato che fosse fuori gioco l'ultima parola a te sei la Cassazione no 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 mi accodo mi accodo a voi mi accodo a voi e anche dal coordinamento mi segnalano che ugualmente sul secondo monitor di servizio era in fuori gioco un gran gol di Marco Voci anche era saltato in piedi anche Maurizio Vatrano il nostro regista Luca Franco si era emozionato perché era veramente uno di quei gol un po' alla zapata di oggi nella Sampdoria contro il Milan dove scarichi tutta la rabbia in porta Stranieri non aveva potuto fare niente però il risultato rimane a reti bianche perché giustamente il signor Petrosino ha segnalato il fuori gioco mentre intanto vediamo che sta completando probabilmente il riscaldamento o meglio lo sta forzando Francesco Fiorentino una delle pedine fondamentali appunto della squadra del Monte Paone nello scorso anno e quindi la partita riprenderà mentre non riusciamo a riconoscere dovrebbe essere Signorello il giocatore che è rimasto infortunato perché poi si era buttato a corpo morto per evitare il tiro di Marco Voci si riprenderà con una punizione affidata a Stranieri in questo momento mentre Mr. Cristoforo addirittura è entrato in campo per dare indicazioni in questo momento dicevamo l'Eurogiri Falco Conidi grazie Giuseppe mi dice che è Conidi l'Eurogiri Falco si trova in 10 con Ture che presidia da solo tutta la fascia destra ecco che Mr. Cristoforo chiede la sostituzione si arrabbia vediamo quale giocatore ora entra al posto di Conidi ma intanto è ripreso il gioco con Vonella che apre nei confronti però di un giocatore del Monte Paone che scambia poi con Paparazzo la palla finisce a Mellace mentre si sta riscaldando Sgro ancora Procopio Procopio e chiude molto bene Ferraina quando Procopio stava per tirare all'ultimo momento e quindi ci sarà un altro calcio d'angolo per il Monte Paone con Sgro che quando siamo al sesto minuto del secondo tempo entra in campo al posto di Conidi che praticamente si è infortunato quindi seconda sostituzione per infortunio mentre vediamo che anche mister Pisani sta facendo riscaldare il numero 16 Greto e quindi cominciano a muoversi le panchine e in bocca al lupo quindi a Conidi che ha subito questo infortunio arriva la parabola esce di pugno Stranieri mischia in aria la palla si impenna ancora un colpo di testa c'è Conidi che incomincia a lottare ma la palla poi finisce dove c'è Stranieri che recupera e calcia via lontano a cercare no ma Conidi è in campo quindi non è stato attenzione Trino raccoglie il pallone lo stop vede la perfetta chiusura di Ienco e se ne va appunto Bassi De Massi quindi ora dobbiamo identificare il giocatore che è uscito perché chiediamo aiuto sia a Giuseppe Ranieri che deve riparare sia al coordinamento sia a Mimmo Cosentino mentre intanto riparte ancora Ferraina viene fermato a Paparazzo si lotta ora col coltello fra i denti e Doria che tocca per Voci che mette ordine ecco riceve la palla ancora Paparazzo se la porta in avanti ecco che la palla poi finisce per a Turè che tocca per Conidi che avevamo detto erroneamente uscito mentre non è così quindi ora dovremo accertarci di chi sia il giocatore che è uscito mentre la palla finisce ancora a Trino che però era in fuorigioco e questa volta è giusta la segnalazione appunto del signor Petrosino quindi vediamo che Vitaliano è in campo e in campo anche Ferraina e quindi ora probabilmente ad esserci infortunato come avevo detto all'inizio probabilmente dovrebbe essere proprio Fiorentino no Signorello vediamo che intanto esce Gualtieri ed entra Greto e su questo non dovrebbero esserci errori quando siamo all'ottavo minuto del secondo tempo Gualtieri lascia il posto appunto a Greto e noi lo annotiamo sui nostri sui nostri Tacquini vediamo sì allora confermiamo era Signorello quello che si è infortunato e quindi l'ingresso di Sgro numero 16 al sesto del secondo tempo è al posto di Signorello e non di Conighi attenzione che c'è stato un fallo proprio su Greto il neo entrato Petrosino non solo ammonisce il numero 7 Burdino ma dà la punizione proprio dal limite dell'aria qui ci poteva essere il dubbio se fosse dentro o fuori dell'aria Petrosino era sufficientemente vicino e quindi ci sarà la punizione dal settore sinistro della zona d'attacco del Monte Paone probabilmente qui dovrebbe battere un destro cercando una traiettoria a rientrare con ben cinque giocatori del Monte Paone tra cui anche Cannistran pronti e schierati ci sembra che sia Paparazzo l'incaricato della battuta l'arbitro fa rispettare i 9 metri e 15 e questo ci viene dato a conferma anche dai nostri monitor si tratta di 9 metri e 17 per l'esattezza parte Paparazzo che di destra mentre Stanieri si è piazzato la barriera sta per fischiare Petrosino tutto è pronto tutto il praticante in the box parte Paparazzo la palla arriva e finisce dà l'illusione ottica del gol ma finisce sull'esterno della rete c'è stata una deviazione solo Paparazzo e per il calcio d'angolo tutti gli altri sono d'accordo per il calcio di fondo e quindi si riprenderà con un calcio di fondo siamo giunti al decimo minuto facciamo ordine nel senso che è stato signorello a essersi infortunato al sesto del secondo tempo ed è stato sostituito dal numero 16 che è il numero di Sgro perché indistinta c'era stato segnalato appunto che Sgro e non Chaban aveva il numero 16 sarà stranieri a effettuare questo rinvio di sinistro la palla supera la metà campo si impegna arriva Cannistrà che colpisce bene Mellace tocco per Procopio in fuorigioco Voci ma fuorigioco passivo recupera Doria si prepara al cross arriva il pallone Procopio Procopio e tutti tutti insieme da Gregorio e questo è il momento il gol di Procopio al decimo minuto fa abbracciare tutti intorno alla maglia numero 10 la maglia di Gregorio Vatrella cross di Doria incornata di Procopio Montepaone in vantaggio Ero Giri Falco che senza demeritare passa in svantaggio ed è Salvatore Procopio con la perfetta incornata a portare in vantaggio il Montepaone undicesimo minuto 1 a 0 per il Montepaone e sappiamo che hanno esultato anche in paradiso il Montepaone quindi si porta in vantaggio Procopio alla sua maniera con decisione è riuscito a segnare ma molto bello sia l'apertura di Doria che di destro ha messo in mezzo un cross imprendibile per i difensori dell'Euro Giri Falco sia l'azione iniziale di Voci che praticamente capendo di essere in fuorigioco non si è mosso e non ha partecipato all'azione ma intanto vediamo come si organizza l'Euro Giri Falco per recuperare questa situazione di svantaggio con Vitaliano che tocca per Conidi che cerca l'imbeccata verso Quirino che però ha di fronte a sé Ienco il tocco viene intercettato da Ture che fino a questo momento mi sembra tra i migliori in campo della sua squadra con Ienco che non riesce a mantenere la palla all'interno del campo e interrompiamo Giuseppe Ranieri che continua a fumare però si tratta di un fumo non nocivo almeno così dovrebbe essere per chiedergli com'è stato questo gol di Procopio è un gran gol di carattere che in piena aria riesce di destro a trafiggere il portiere però è un gol meritato perché il Montepone già nel primo tempo con vehemenza era giunto dalle parti di stranieri ed era andato vicino alla rete più volte di sicuro l'Euro Giri Falco sta giocando la sua gara a testa alta cerca di imprimere una manovra decisa però il Montepone abbiamo visto oggi in giornata ed è un continuo mettere sotto pressione la retroguardia avversaria grazie Giuseppe c'è Quirino che ha fatto qualcosa di male perché l'arbitro ha fischiato si è portato la palla fuori dal campo e quindi riparte ancora il Montepone ma vediamo che c'è anche un'ammunizione per Quirino una di quelle ammunizioni che non ci piacciono dove gli arbitri puniscono magari una parola e sappiamo che con l'adrenalina a mille con lo stress da partita forse una parola può sfuggire chiediamo a Mimmo Cosentino che ha esperienza di calcio una parolina ogni tanto cattiva scappa sul campo o tutti quanti dicono Corbezzoli no comunque il Montepone ha meritato questo vantaggio già forse ci poteva stare nel primo tempo ma contro un Eurogiri Falco che sta facendo una bella gara sta dimostrando di essere ben messo in campo da mister Cristoforo ma il Montepone sta dimostrando qualcosa in più e ringraziamo Mimmo riparte il Montepone lo scambio vede ancora una volta favorito Mellace che si appoggia sul Lombardo Contrino che lo va a disturbare e Lombardo che cerca Conidi che ora giostra dalla parte sotto la nostra tribuna il pallone però finisce in out Ferraina tocco per Conidi un calcio ricevuto da Conidi che però resiste e poi si ferma praticamente perché probabilmente ha fatto male il colpo ricevuto mentre non ha capito che si è fatto male il suo compagno Ferraina ora sì su indicazione di mister Cristofaro che come di consueto perché si tratta veramente di un mister di quelli importanti utilizza quasi come se avesse un joystick in mano i suoi giocatori dando le indicazioni sui posizionamenti e sui movimenti che vanno fatti in campo mister Cristofaro un uomo che ama il calcio un uomo un allenatore di quelli che piacciono a S1 TV e ancora Stranieri che allarga ora ci sembra per Rando che controlla il pallone poi si appoggia su Vonella Vonella a sua volta all'indietro cerca di manovrare ora l'Eurogiri Falco ragionando con Ture che si è un po' accentrato in una posizione di maggior offensività e ancora Conidi che con esperienza evita l'arrivo dell'altro Conidi e poi è Doria che senza fronzoli senza dubbi mette la palla in rimessa laterale 14esimo minuto 36 secondi e una manciata di decimi con l'Eurogiri Falco in svantaggio per un gol sul terreno del Monte Paone attenzione perché Conidi non riesce a controllare il pallone Petrosino vede un fallo dell'altro Conidi è colpa di Nicola e fallo a favore di Domenico e quando hanno lo stesso cognome li chiamiamo così per nome siamo tutti amici sarà Quirino a mettere al centro questo pallone ci sembra che Quirino privilegi il sinistro ma sia anche molto abile col destro e quindi andiamo a vedere un po' come si gestiscono i giocatori dell'Eurogiri Falco che scendono in massa questa volta contiamo 6 giocatori anzi 5 all'interno dell'area con Conidi che ci altera il conteggio perché ora entra all'interno dell'area e quindi sono 6 tutti pronti calcera di destro Quirino Lombardo opta per una barriera composta soltanto da Paparazzo Marco Voci intermedio e poi tutti gli altri con un giocatore in fuorigioco attenzione questo bisogna vedere come arriva il movimento palla al centro cerca di girarsi al centro dell'area un attaccante dell'Eurogiri Falco non ci riesce la palla finisce in out ed è lo stesso mister Pisano che fornisce il pallone a Lombardo per il rinvio dall'area piccola del portiere è Lombardo che scambia con Cannistrat che evita il ritorno di Conidi il giocatore che ha cercato il tiro e si trattava di Ferraina con Lombardo che ancora lancia proprio da Ferraina che di petto stoppa appoggia per Vonella che ha macinato il gioco e ha toccato un sacco di palloni il lancio viene sporcato da Greto Mellace per Voci parte in velocità Procopio Voci punta l'avversario scambia con Procopio recupera ancora Salvatore Procopio mette in mezzo verso Voci ma a stranieri chiude tutto mentre Randò temporeggiando parola amata da tanti allenatori ha evitato appunto che questa azione del Montepone diventasse pericoloso Quirino cerca di servire Conidi ma è l'altro Conidi Nicola che chiude bene la diagonale e lascia poi a Ienco che questa volta non pensa a ragionare ma rinvia il pallone nella zona dove si posiziona appunto Sgro è cambiata un po' la linea difensiva dell'Euro Girifalco con Sgro Burdino Vincenzo Vitaliano e poi il numero 4 appunto Randò e hanno portato in avanti Ture che però ci sembra un po' spaisato nella nuova posizione ma anche ora riceve la palla tocca ancora per Quirino la palla in mezzo a cercare con Idi che la toglie praticamente a Ferraina con un tocco era forse incerto se fare velo o se stoppare il pallone e alla fine ha penalizzato Ferraina 17esimo minuto di gioco con mister Pisano che ormai gestisce tutti i palloni fornendoli ai giocatori rimessa laterale che sarà affidata appunto al numero 5 con Idi che a sua volta lascia il pallone a me lascia non riesce lo scambio fra i due sicuramente ora il terreno è un po' più pesante appesantito appunto dal fatto che si è già giocato per oltre un'ora quasi e sarà il numero 5 Ferraina a effettuare questa rimessa in campo con le mani cercando di favorire a sua volta Vonella Ferraina mette in mezzo la palla viene svirgolata dalla difesa del Montepaone Cannistra colpisce di testa e ancora Ferraina che di testa cerca di servire con Idi bello lo scambio ma c'è Ferraina che tocca per Trino al centro dell'aria dribbling Tritino attenzione e doppio intervento molto bello di Lombardo Trino si è liberato alla grande e poi Quirino ha concluso ma per due volte Lombardo ha detto no chiudendo la Saracinesca riprendendosi le chiavi della Saracinesca con la quale blocca i gol della squadra avversaria e dicendo quindi no anche in questo caso tutto molto bello soprattutto Trino questo 97 che ha fatto un bel movimento Doria viene fermato da Randò che se ne va poi in bello stile questa volta Tadori ha avuto un attimo di indecisione quando doveva puntare l'avversario è stato travolto perché ha perso il tempo giusto da Randò e Conidi che rimette sbagliando controfallo e il secondo controfallo questa volta probabilmente la palla viscida è scivolata dalle mani di Conidi e vediamo ecco che imposta ancora la palla il gioco Ferraina per Vonella scambio con Vincenzo Vitaliano che allarga verso il Nentratus Grow ruba palla Greto che la difende il piccolo giocatore dal baricentro basso cerca di andarsene in bello stile ma l'arbitro ha fatto proseguire l'azione e ha fischiato un fallo il Montepaone non si ferma Marco Voci tocco per Procopio si gira Procopio miracolo di Stranieri che mette la manona e toglie dall'angolino un tiro di Procopio che un po' la dibala quasi stendendosi per terra era riuscito a centrare l'angolino ma Stranieri ancora una volta dice il portiere di valore sono io e con la punta delle dita mette in calcio d'angolo si tratta dell'ennesimo calcio d'angolo praticamente siamo a quota 9 il prossimo andremo in doppia cifra con il Montepaone che continua ad attaccare ma questa volta l'arbitro fischia un fuorigioco nell'azione del Montepaone e il girifalco che rimane a galla tenuto a galla da questi stranieri che sicuramente ha fatto una serie di parate importanti così come Lombardo e quindi due portieri oggi stanno dimostrando che il ruolo del numero uno qui nel nostro comprensorio è ben presidiato siamo tutti numeri uno sì due portieri determinanti perché nell'arco della gara hanno dato prova delle loro qualità sia Lombardo nell'ultimo intervento in due tempi su Trino e Quirino che stranieri adesso su Procopio con la punta delle dita deviato in corner e intanto dobbiamo dire che Mimmo Cosentino che si era informato aveva anticipato pioggia alle 16 mentre dal coordinamento mi confermano che non piove Mimmo mi sa che sono le 17 e ancora non piove altre previsioni meteorologiche? un attimo che sta prendendo un appunto qualche coccettino comincia ad arrivare a cadere guarda dal coordinamento mi confermano hanno messo la mano anche fuori dalla finestra della tribuna stampa al momento non piove attenzione perché c'è Paparazzo che finta il tiro è affrontato da Ture e poi scarica il suo destro con un tiro deciso che però non impensierisce stranieri intanto continuiamo appunto a vedere che l'Eurogini Falco al ventunesimo del secondo tempo pur in svantaggio di un gol continua a macinare il gioco perché in sostanza continua a fare la stessa partita una partita di attesa e ripartenza una partita sì di sofferenza ma che finora esclusa l'occasione appunto del gol di Procopio ha visto premiati i tentativi dell'Eurogini Falco la palla arriva al centro tocco per Voci Marco Voci e questa volta l'arbitro fischia qualcosa vediamo che c'è un'ammunizione e probabilmente calcio di rigore perché c'è stato un tocco di mano e c'è l'ammunizione nei confronti di Vitaliano noi segniamo l'ammunizione questa volta Pietro Stino ci ha spiazzato perché ha visto qualcosa che neanche col monitor di servizio avremmo visto mentre invece mister Sestito ci diceva che c'era il fallo di mano e quindi calcio di rigore mister Sestito è abituato a guardare dalla panchina e quindi era rigore si sacrosanto si è visto nettamente ed sarà Marco Voci che prende il pallone lo poggia alla distanza degli 11 metri sul dischetto che è un po' il cuore del mondo e del cuore e dell'animo calcistico di ognuno di noi Marco Voci contro stranieri stranieri cercherà di dire di no al bomber del Monte Paone tutto è pronto Petrosino ha il fischietto quasi in bocca ora lo appoggerà sulle labbra e Marco Voci guarda negli occhi stranieri fa un saltello qualche passo parte Marco Voci quasi da fermo gol ed è Marco Voci sulla sinistra aveva intuito stranieri ma al 22esimo del secondo tempo ancora una volta attenzione perché c'è stato un raccatta palle che per la gioia è anche caduto però ecco è un momento di gioia tutti ad abbracciarsi e alla fine alla fine è stato il raccatta palla davvero la peggio ma la gioia del Monte Paone e dei suoi tifosi è notevole 2 a 0 sul rigore Marco Voci non sbaglia anche se stranieri aveva intuito la direzione e a questo punto quando mancano circa 20 minuti alla fine del secondo tempo il risultato è di 2 a 0 per il Monte Paone però vediamo che Lombardo ha dei problemi in porta c'eravamo un po' distratti visto che eravamo da tutt'altra parte del campo attenzione perché Lombardo accusa dei problemi ed è necessario l'intervento dello staff medico sempre solerte e puntuale qui al Frabotto Mannis comunale di Monte Paone e speriamo che non sia niente di grave per il giovane portiere del Monte Paone Giuseppe 2 a 0 a questo punto partita in cassaforte 2 a 0 un risultato rotondo classico maturato ormai a tre quarti di gara è pur vero però che contro questo giri falco c'è da giocare fino alla fine perché l'esperienza del calcio ci insegna che le partite finiscono al novantesimo per cui il Monte Paone dovrà giocare per meritarsi i tre punti Mister Sestito in questi casi c'è ecco Mister Sestito è in collegamento con altre testate c'è il rischio che i giocatori mollino cosa fa l'allenatore per dire ragazzi come se stessimo sullo 0 a 0 vabbè al momento penso che non sia un problema che ha il Monte Paone perché vedo che è rimasto concentrato e in partita in caso contrario certo l'allenatore cerca di dare una carica psicologica esortando i giocatori a non a non mollare poi quest'anno rispetto agli altri anni ci sono cinque cambi e quindi si può eventualmente intervenire in qualche giocatore che non recepisce bene le direttive e quindi ancora una volta abbiamo anche la fortuna di avere il pensiero dell'allenatore in questo caso Mister Sestito quello che avviene in panchina quando succedono tante cose noi magari pensiamo all'aspetto estetico ma vediamo che fortunatamente Lombardo si è ripreso e quindi tutto ok resta in campo il portiere del Montepaone e si riprenderà probabilmente poi a fine partita ci sarà da recuperare qualcosa ancora una segnalazione dal coordinamento ricordiamo che nella scorsa giornata attenzione perché si tenta subito questo è Quirino esperto giocatore che pensando che Lombardo fosse ancora distratto ha cercato di battere subito a rete ma non è successo niente diciamo al coordinamento ci segnalano che nella scorsa giornata la prima di campionato sono avvenuti 31 gol di cui 21 in casa e 10 fuori sappiamo che al momento senza la giornata odierna sono ben sette le squadre a punteggio pieno cioè che hanno vinto una partita Mileto Eurogiri Falco Badolato San Calogero Mammola Montepaone e Vigor La Mezzia e noi ringraziamo per la solerzia il coordinamento e ritorniamo in telecronaca con Vitaliano che tocca per Quirino che ora incomincia a suonare la carica perché giustamente l'Eurogiri Falco non ci sta il tocco con Conidi però vede inserirsi molto bene Ienco che riparte in velocità scambia con Greto che difende il pallone ma viene chiuso sia dal da Sgro che dall'altro giocatore si tratta di Vonella alla fine però non si capiscono i giocatori dell'Eurogiri Falco e il pallone finisce in rimessa laterale 26esimo minuto di gioco Montepaone 2 Eurogiri Falco 0 ma la partita potrebbe ancora riservare delle sorprese perché i giocatori in campo stanno veramente dando l'anima dall'uno e dall'altro lato è ancora Greto che si fa valere nonostante la stazza non elevatissima è ancora rimessa per il Montepaone con Mellace che senza guardare tocca per voci elegante lo stop di tacco evita un avversario vede Greto poi però viene tradito anche lui da un falso rimbalzo recupera ancora voci scambia con Doria che si gira con azione no look per Procopio ma è proprio no look nel senso che nessuno vede che la palla finisce ai giocatori dell'Eurogiri Falco e ancora Doria che protegge il pallone elegante tocca per Procopio appoggia per voci si gira apre per Greto non ha voluto tirare in questo caso voci ma continua il Montepaone attenzione perché ci potrebbe essere un break dell'Eurogiri Falco recupera il pallone ancora Doria cerca di mettere un po' d'ordine punta l'avversario ma viene si trattava di Ferraina che però lo chiude con l'aiuto di Randò che poi appoggia per Ture che sta un po' prendendo tutte le posizioni possibili sullo scacchiere di gioco dell'Eurogiri Falco ma il Montepaone a premere l'acceleratore con Doria che scambia ancora con Paparazzo Doria Paparazzo elegantissimo questo scambio e questa volta non può niente Randò che entra poi alla disperata aveva colpito di mano ma l'arbitro ha dato giustamente il vantaggio ed ecco il decimo calcio d'angolo quarto del secondo tempo in favore del Montepaone mentre intanto mister Cristoforo muove ancora una pedina ci sembra che ora in campo dovrebbe essere Darab a entrare in campo al ventottesimo del secondo tempo al posto se non andiamo errati di Conidi speriamo che si giri prima di andare in panchina sì quindi esce Conidi al ventottesimo del secondo tempo ed entra Darab mentre col numero addirittura 26 e sarà appunto Paparazzo a calciare questo calcio d'angolo che vede cinque giocatori del Montepaone era consueto schieramento a zona 5 più 3 dell'Eurogiri Falco la palla arriva lontano e ci pensa proprio il numero 16 Sgro a mettere in out per un altro calcio d'angolo e questa questa è da notare quindi è uscito Darab al ventottesimo ed è entrato appunto è uscito Conidi ed è entrato Darab chiediamo a mister Sestito non si marcava uomo sul calcio d'angolo ma beh non è scontato c'è chi preferisce marcare uomo chi preferisce marcare a zona e succede così anche nei professionisti arriva il pallone per Marco Voci che praticamente fa un passaggio a un compagno si tratta di Ienco che entra in aria mette in mezzo un pallone eccezionale che però fa la barba alla trasversale non è né un tiro né un cross e finisce in out sentiamo intanto Lombardo che chiama un po' tutti i suoi giocatori a ritornare perché il Montepaone si era catapultato nella metà campo dell'Euro Giri Falco con Touret paparazzo e alla fine ancora Touret che ha la meglio di fisico si proietta in velocità di sinistro mette in mezzo e la palla finisce direttamente tra i piedi di Lombardo che per guadagnare qualche secondo evita di prenderla mentre Trino lo va a disturbare ecco che appunto la palla viene ricevuta ora da Mellace che scambia con con Idi il Montepaone sempre ragiona in fase iniziale dell'azione lo scambio è a favore di Bassi De Masi che recupera il pallone nonostante sia braccato da Darab ancora Bassi De Masi per Ienco che riceve il pallone tocca per Procopio Greto si va a insinuare questa volta è un no collettivo mentre dobbiamo dire stavolta il coordinamento ha torto perché aveva ragione Mimmo Cosentino sta piovendo e quindi a questo punto attenzione a non far arrabbiare Mimmo Cosentino perché ha detto pioggia sia e pioggia è stata Giuseppe detto anche il bernacca del calcio un'altra caratteristica che non conosciamo di Mimmo Cosentino fortuna che abbiamo a tribuna stampa infatti ci siamo chiusi dentro e anche riscaldata nonostante forse non servisse ma comunque siamo diciamo tra due guanciali intanto c'è una punizione in favore dell'Eurogini Falco chiamiamo anche Maurizio Vatrano che col computer sfida la pioggia se vuole venire in tribuna stampa gli apriamo ecco che sarà Quirino che è pronto a battere ecco che sta per battere vediamo prima cosa succede e poi vediamo che Lombardo si arrabbia con i suoi l'arbitro sta per fischiare parte la parabola di destro lunga esce con sicurezza Lombardo Maurizio un dato tecnico e poi la pioggia era prevista da Mimmo Cosentino lo sapevi ed è arrivata era prevista da più parti veramente anzi dobbiamo ringraziare il nostro signore che sta tenendo infatti ancora ci sono delle persone sugli spalti compreso noi e niente per quanto riguarda la partita faccio così un mio parere personale ho notato molti errori a ambo le parti infatti le occasioni sono avute fuori più che su costruzioni pensate e ragionate proprio così da errori anche grossolani direi spazi molto aperti da ambo le parti anche i dati dicono che in effetti una squadra come l'Eurogirifalco che arriva a tiro nell'area di rigore più volte una squadra una squadra che punta molto alla difesa come quella del Monte Paone questo è un dato che ci lascerà pensare in settimana grazie Maurizio Vatrano intanto Trino per poco non ha appunto ancora una volta fatto impensierire la difesa del Monte Paone perché ha tirato di esterno sinistro su una palla vagante che però è finita out 32esimo del secondo tempo 2 a 0 per il Monte Paone Mellace e Conidi continuano a dialogare il tocco è per Procopio che stoppa il pallone evita un avversario si trattava del numero di Sgro il tocco viene intercettato da Randò ma con Marco Voci che gli va a dare fastidio la palla finisce a Procopio che entra in aria cerca di girarsi mette in mezzo il pallone non scavalca Stranieri Procopio ha tentato un pallonetto alla Martens ma Stranieri era ben piazzato e quindi il pallone è stato recuperato dall'estremo difensore del Girifalco elegante il controllo di Greto tocco per Mellace Marco Voci riceve il pallone è in posizione giusta Marco Voci ed è la doppietta ancora Marco Voci al 33esimo chiude con un 3 a 0 probabilmente questa partita e il pubblico comincia ad andare via perché piove ma anche perché sul 3 a 0 probabilmente questa partita potrebbe non dire niente ma io non ci scommetterei perché sono due squadre che possono parlare di calcio fino alla fine e noi annotiamo il raddoppio per quanto riguarda i gol personali al 33esimo del secondo tempo di Marco Voci con un Montepaone che praticamente si porta sul 3 a 0 e un Euro Girifalco che comunque non ha demeritato anche se nel secondo tempo la pressione del Montepaone è stata sicuramente maggiore intanto contemporaneamente vediamo un'altra sostituzione si tratta di Sagnac che al 34esimo del secondo tempo entra al posto del numero 9 Trino quindi sono due fuori quota che si danno il cambio probabilmente a questo punto mister Cristoforo vuole far fare minutaggio anche al giocatore di colore che insieme con Touré fa parte della rossa dell'Euro Girifalco e ancora una volta Mellace che ruba palla al centrocampo ma c'è Touré che veramente risulta molto importante almeno in fase di interdizione con Ferraina che mette in mezzo la palla la chiama Lombardo l'arpiona con le sue manone e la restituisce poi a Cannistrà il tocco ora è per Mellace che riceve la palla c'è Sagnac con il numero 13 che va a disturbare il dialogo ricordiamo che appunto in fase di consegna e la distinta ci hanno fatto notare che alcuni giocatori hanno un numero diverso Sagnac che era segnalato come l'uno di 17 invece al numero 13 bellissimo lo stop di Greto meno bello il tiro deciso di destro e la palla viene fermata da stranieri però Greto sicuramente è riuscito a dare uno stop che non tutti nel mondo del calcio sanno fare ancora Quirino che porta a passeggio il pallone raddoppio della marcatura Quirino ancora mantiene il possesso della palla lancia per un compagno si tratta di Darab ma la palla ancora finisce a Greto tocco per Ienco che riceve raddoppio la marcatura su di sé Touret e di là non si passa anche se il pallone finisce poi in rimessa laterale siamo giunti a 10 minuti più recupero dalla fine e mister Alessandro Pisano si fa sentire perché non vuole appunto come diceva mister Sestito che cali la concentrazione il 3 a 0 non giustifica nessun calo la porta deve rimanere inviolata l'obiettivo a questo punto è il clean sheet per Lombardo e ancora ci prova l'Eurogiri Falco il cross per Quirino che si tuffa ma l'arbitro non a bocca in questo caso Quirino ha cercato il tiro e poi ha cercato di lucrare il massimo vantaggio molto bravo Greto che evita un avversario con una Veronica se ne va inseguito da Darab poi lascia per Paparazzo il pallone viene arpionato da Turè questa volta Procopio commette fallo e Vitaliano che riparte e ecco che mastica calcio Vitaliano cercando di portare in avanti il pallone commette fallo anche Procopio abbiamo qui da noi anche un giovane che sta guardando una partita a questo punto ci deve dire nome e cognome quanti anni hai e per chi ti questo è obbligatorio è un momento emozionante però concentra mi chiamo Agostino Massimo Cristoforo e ho nove anni tifi euro facci picchia quindi stai perdendo però ti facciamo gli auguri un in bocca al lupo per te e per tutto l'Euro Giri Falco per un futuro quanto più possibile bello grazie Agostino ho detto bene ecco che riparte ancora il Monte Paone con il numero 13 Cannistra il tocco e quindi ci dicono ora dal coordinamento che è nipote di mister Cristofaro quindi buon sangue non mente se è nipote di mister Cristofaro sicurezza sarà un ottimo giocatore ecco che Quirino per poco Cannistra non riesce a farsi superare ma poi è una roccia Cannistra e di là non si passa perché di fisico riesce ad arginare la foga di Quirino e ancora un tocco in avanti di Ivonella con Sagnac che cerca di rubare la palla ci riesce si tuffa anche lui probabilmente chiede chiede il rigore però ecco che l'arbitro è troppo vicino per dire che si tratti di massima punizione e a questo punto la palla finisce in out è uno di quei casi sempre discutibili Giuseppe sul monitor di servizio cosa ti è sembrato? No 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 il rigore non c'era il rigore non c'era chiaramente ci ha provato il calciatore ci ha provato ma il rigore non c'era e intanto mentre scorre il trentottesimo minuto un applauso anche per il giocatore che sta entrando si tratta di Francesco Fiorentino che praticamente è alle viste la sostituzione vediamo chi uscirà esce proprio Cannistrà entra Fiorentino al trentottesimo del secondo tempo anche il pubblico è contento di poter applaudire appunto Fiorentino che al trentottesimo del secondo tempo dà il cambio a un ottimo Cannistrà che è stato un perno della difesa ha retto appunto la difesa però Fiorentino sentiamo anche urla di tifose quindi è un giocatore di quelli che piacciono agli amanti del calcio ma piacciono anche alle tifose probabilmente e sarà Lombardo a calciare con Petrosino che dà il via e il destro di Lombardo è a cercare Ienco di testa Ienco si libera subito verso Greto ma interviene il numero 16 Sgro e mette in rimessa laterale nel dubbio che potesse succedere qualcosa di pericoloso la rimessa laterale favorisce Procopio che stoppa il pallone scambia con Ienco che si appoggia per su paparazzo ancora Ienco a questo punto se ne va in bello stile Ienco ancora per Procopio è partito Greto sulla sinistra Procopio però punta verso la porta punta anche l'avversario si allarga verso Doria solo Doria di punta modello calcetto ma l'arbitro sì l'arbitro concede il gol e al 39esimo è il quarto gol di Doria questa volta era l'unica cosa che poteva fare perché gli avversari gli stavano addosso ha toccato di punta mister Sestito un tiro da calcetto però era l'unico tiro possibile sì aveva perso il tempo ed è stato molto furbo e cinico a colpire la palla di punta io di solito Doria lo paragono a Cristiano Ronaldo ma questo è un gol Paone ha fatto il più nel secondo tempo ma il 4 a 0 Giuseppe è un risultato duro da digerire per il Giri Falco che comunque ha fatto meglio nel primo che nella seconda frazione di gioco sicuramente è un risultato importante nessuno di noi immaginava un 4 a 0 nell'arco di questa partita perché il Giri Falco ha venduto cara la pelle fino ad ora però gli ultimi errori gli ultimi gol sono stati frutto di errori difensivi e chiaramente gente come Doria o come Procopio insaccano in rete ne approfittano e quindi siamo sul 4 a 0 Ecco che intanto mister Pisano sta facendo riscaldare anche Carpino dandogli delle indicazioni siamo giunti al 41esimo in corso del secondo tempo quindi a questo punto possiamo dire che il Montepaone ha ipotecato la vittoria però ai danni di un Eurogiri Falco che esce a testa alta dal Frabotto Mannis di Montepaone è una squadra che probabilmente soprattutto in casa e con l'ausilio dei suoi splendidi tifosi potrà diciamo gestire un campionato decoroso standing ovation di tutti i tifosi del Montepaone per Marco Voci che al 41esimo lascia il campo in favore di Carpino che appunto lo sostituisce e mister Pisano quindi dà l'applauso la standing ovation al giocatore autore della doppietta anche perché nel caso di tripletta poi si dovrebbe portare a casa il pallone e nelle nostre categorie un pallone ha la sua importanza anche economica quindi 4 a 0 recupera il pallone intanto Ferraina che lo mette in mezzo dove c'è Bassi De Massi che spazza con decisione tocco di petto di Fiorentino il lancio è per Doria elegante il controllo Fiorentino arpione il pallone Suola e poi tocco per il numero 7 Doria che sbaglia il passaggio Vonella è un momento di leggera confusione esce però molto bene con Idi e si affida ancora a Fiorentino che con la sua esperienza addormenta un attimo il gioco e passa indietro a Lombardo a questo punto bisogna solo far passare il tempo poi confidando sul fatto che vista la situazione il signor Petrosino non dia un ampio recupero oppure se lo darà noi saremmo ben contenti di parlare di calcio e vedere calcio ancora per altri minuti il tocco a favorire Greto non raggiunge quest'ultimo e sarà una rimessa laterale che tocca in questo caso all'Euro Giri Falco con le mani di Sgro che alza la testa e serve Vonella a mio avviso Vonella tra i migliori in campo insieme a stranieri dell'Euro Giri Falco se non altro per il numero di palloni che ha toccato Giuseppe invece tu cosa pensi che sia da indicare per l'Euro Giri Falco come miglior calciatore? Io potrei dire Trino Quirino Palaglia che è già uscito che è stato determinante anche nel primo tempo a salvare qualche rete complessivamente è una squadra ben messa in campo però per me Trino e Quirino sono stati superiori e intanto eccolo il Fiorentino che conosciamo che vola sulla fascia destra salta un avversario si appoggia su Mellace Mellace di sinistro va a cercare Carpino anzi no si tratta di Greto Greto ottimo lo stop è un tiro elegantissimo di Greto forse qua ci voleva un pizzico più di cattiveria per metterla nell'angolino Giuseppe invece per il Montepaone per il Montepaone per il Montepaone possiamo dire che determinante oggi è stato Marco Voci il solito Marco Voci ma anche Procopio ha fatto una gran bella gara e quindi ricordiamo agli spettatori che premendo il tasto Fucsia del loro telecomando possono dare o meno ragione al parere di Giuseppe Ranieri e quindi scegliere insieme a lui l'uomo della partita di questo Montepaone contro Eurogiri Falco e ancora Quirino che punta l'avversario ha di fronte a sé Paparazzo lo evita con una serie di finte poi però non riesce a toccare in maniera da favorire un suo compagno e ancora l'Eurogiri Falco con Vitaliano Vonella che controlla il pallone lo appoggia ancora per Vitaliano evita il ritorno di Carpino tocca in direzione del numero 7 Burdino Burdino cerca un dribbling che però gli viene impedito dal ritorno di Paparazzo tocco per Procopio ancora Paparazzo parte in velocità a Doria velocissimo sulla fascia evita anche il ritorno di Randò vola Doria mette in mezzo per Procopio Salvatore Procopio e questa è un'azione da mettere nel manuale del gioco del calcio pagina 58 Doria che mette in mezzo al 44esimo un pallone d'oro per Procopio che deve soltanto metterlo in rete anche questo non era facile perché di fronte aveva stranieri però veramente una bella azione vedo mister Sestito che magari la racconterà ai suoi giocatori come tipo di azione in contropiede quasi da manuale sì la classica ribartenza con Doria che ha veramente un passo in più in pochi secondi ha ribaltato l'azione dal suo centrocampo a fondocampo e poi ha messo una palla invitante solo da mettere in rete per Procopio e allora diamo in carico a mister Sestito di spiare gli appunti di Mimmo Cosentino e di Giuseppe Ranieri per sapere già in anteprima cosa reggeremo sui giornali di domani poi ce lo diciamo tra di noi perché poi non possiamo violare questo segreto perché bisognerà comprare Gazzetta Quotidiano e ogni giornale che parla di calcio c'è ancora un fallo segnalato dal signor Petrosino arbitro che non si è notato e quindi questo è un dato di fatto positivo a suo favore arbitrato bene ma è stato molto aiutato da tutti e 22 giocatori escluso una scaramuccia con Palai all'inizio poi non è successo più niente e ancora l'Euro Giri Falco che a testa alta e con coraggio e al grido dei suoi tifosi you'll never walk alone continua comunque ad attaccare come se ci trovassimo sullo 0-0 perché questo è il modo di onorare al meglio il gioco del calcio il colpo di testa però finisce in out lì dove un tempo c'era anche una piccola montagnella di sabbia che quest'anno non c'è più si vede stata utilizzata e che da un punto di vista estetico era stata criticata da molti dei nostri spettatori comunque sarà stato utilizzato questo piccolo insieme di terriccio sabbia per riempire le buche del campo intanto il Lombardo mentre abbiamo superato da un minuto il 45esimo dal coordinamento ci segnalano che l'arbitro assegnerà probabilmente tre minuti complessivi di recupero con Lombardo che calcia verso Ienco salta il giocatore ma viene anticipato dall'erogio di Falco con Touret che stavolta si gira bene punta l'aria avversaria salta un avversario Touret tocca verso Sagna era un dialogo molto bello ma Sagna è stato anticipato il tocca ancora per Procopio Procopio si appoggia per Ienco anche questa volta una partita lui e Doria sicuramente abbondantemente sopra la sufficienza si innamora un po' troppo del pallone Greto gli viene strappato dai piedi e riparte ancora il girifalco folata di sgro che entra in aria punta l'avversario mette in mezzo per Quirino ma lì c'è Fiorentino che blocca tutto e rinvia 47esimo 17 secondi e una manciata di decimi il recupero no l'arbitro Giuseppe l'arbitro non ha segnale il recupero l'ha detto soltanto al nostro coordinamento è un segreto con la nostra televisione una gentile concessione però sta guardando l'orologio e quindi probabilmente mancano ancora 30 secondi con il numero 4 Randò che serve per Quirino che prende ancora il pallone si gira guarda la porta probabilmente ha pensato al tiro ma gli è stato chiuso lo specchio Sagnà controlla entra in aria ma c'è Fiorentino ancora Sagnà strappa con decisione il pallone dai piedi di Fiorentino ma si chiude il muro della difesa del Montepaone con Doria che poi rilancia verso Procopio ennesimo pallone che il centroavanti recupera per far salire tutta la squadra e finiscono qui le ostilità ricordando i marcatori doppietta di voci doppietta di Procopio e gol di Doria ribadiamo il finale dal Frabotto Mannis di Montepaone Montepaone la televisione del calcio vi dà appuntamento alle prossime meravigliose partite che vi trasmetteremo Grazie a tutti Grazie a tutti